Indennità di disoccupazione, stipendio in nero e reddito di cittadinanza e alla fine del mese sul conto registrava un bel gruzzoletto ma la guardia di finanza ha scoperto la truffa sanzionando la furbetta eppure il titolare che l'aveva assunta senza alcuna carta scritta come cuoca. La protagonista di questa storia è una donna di 46 anni di Montenero di Bisaccia che appunto da un anno risultava senza un'occupazione tanto da aver ottenuto l'aiuto dallo Stato. Un doppio aiuto se si pensa che per i mesi di aprile e maggio ha percepito anche il reddito di cittadinanza, strumento nato per combattere la povertà e su cui immediatamente si è adombrato lo spettro degli approfittatori tanto che Di Maio e Soci hanno sempre annunciato come i controlli sarebbero stati serrati. Il raggiro è stato scoperto dalle fiamme gialle di Termoli grazie a una delle verifiche svolte in materia di contrasto all'evasione fiscale e al sommerso da lavoro. La donna di Montenero è stata colta sul fatto nel ristorante in cui lavorava dietro ai fornelli ed è stata denunciata alla procura di Larino. Ora dovrà restituire una bella somma pari all'ammontare di quanto percepito indebitamente. Maxi sanzione al titolare per l'impiego della lavoratrice in nero dovrà pagare una multa che vada a un minimo di 1800 euro a un massimo di 10.800. L'operazione sottolinea ancora una volta l'impegno della Guardia di Finanza che si appresta a celebrare il prossimo 21 giugno il 245esimo anniversario della propria fondazione. Quest'ultima attività testimonia quanto prevenzione e repressione di condotte illecite che sottraggono risorse alle fasce deboli della società costituiscano una priorità del corpo. Lavoro, quello svolto quotidianamente dalle fiamme gialle, che si pone l'obiettivo di contrastare un sommerso che danneggia il mercato, quindi imprenditori e cittadini onesti. Grazie a tutti.